Io amago Fletcher, insegno a te Daniele Capello Riguzzi, detto Riguz, famoso naso di una Fletcher Pipe, la prima pipa wireless della storia. Onorato di questo omaggio, mentre la fumo il mio amico di Sydney ha detto che gli dà fastidio l'odore del tabacco, perché ricordiamo che questa è l'unica pipa che si può fumare wireless in qualsiasi parte del mondo, esattamente, grazie.